Questa è una giornata importante contro la pedopornografia, importante oggi celebrare perché il Telefono Azzurro ha avuto un ruolo forte nell'intercettare i disagi, i bisogni, questo fenomeno orribile dell'abuso sui minori e nel cercare i rimedi possibili. Mi chiedono uno sforzo collettivo, al mio ministero ci sono due osservatori, l'osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza e anche invece l'osservatorio più specifico proprio contro la pedopornografia. Noi abbiamo bisogno di mettere in rete tutti i vari strumenti che ci sono oggi contro questo fenomeno. Da una parte sicuramente deve esserci un importante ruolo della scuola dove è il primo luogo in cui si possono intercettare i disagi, i primi segnali di problemi da parte dei ragazzi e dei bambini. Deve esserci più consapevolezza da parte della famiglia. Noi abbiamo spesso parlato di emergenza educativa e questa emergenza educativa si manifesta anche in una più debole autorevolezza degli adulti nei confronti dei ragazzi, una minore capacità degli adulti di trasmettere con forza le proprie competenze, i propri valori e quindi anche di essere capaci di ascolto in una relazione di scambio in cui sicuramente si può con più facilità, se c'è autorevolezza, si può cercare di far parlare i bambini, i ragazzi, di far uscire dall'ombra questi fenomeni e di trasmettere anche le salvaguardie possibili dai rischi. Poi naturalmente gli esperti, tutti gli operatori del settore, dalla polizia, dalle forze dell'ordine agli esperti invece che agiscono anche negli altri paesi, negli osservatori e nello studio del fenomeno perché bisogna essere sempre molto aggiornati sul fenomeno per riuscire a combatterlo. E per fare questo l'ultima cosa è necessario anche ascoltare i ragazzi, ascoltarli e sapere da loro, capire con loro i rischi che corrono, capire con loro per esempio i nuovi modi di accesso alla rete, i nuovi modi in cui questo polipo riesce ad arrivare fino a loro senza che magari gli adulti se ne accorgano. E per tutto questo appunto serve uno sforzo tutti insieme che noi sicuramente faremo. Grazie a tutti.